Salve a tutti, bentrovati da Stefano Ghetti. Arriva il grande caldo, l'avevamo già annunciato da alcuni giorni, quel caldo che per alcuni fa anche paura, parliamo ovviamente di quelli che lo temono tanto, ci sono tante persone che temono il caldo e temono anche molto l'umidità, il fenomeno dell'Affa, non è infatti tanto il caldo che dà particolari problemi, ma purtroppo sono le condizioni bioclimatiche che purtroppo si creano e sono davvero molto fastidiose, insomma sono caldi piuttosto pesanti, peraltro quando il caldo è molto affoso perdura anche molto durante la notte, le classiche notti tropicali, per notti tropicali si intendono quelle notti dove le temperature non scendono in media sotto i 20 gradi, insomma 23, 24, 25 gradi, sono temperature piuttosto alte per la notte e ci saranno notate sicuramente anche più calde nei prossimi giorni. L'alta pressione africana ormai sta invadendo il bacino del Mediterraneo, sta già portando caldo sulla Sardegna, la Sicilia, su gran parte della fascia tirrenica, ma a cavallo appunto del fine settimana, soprattutto proprio con l'inizio della nuova settimana, il caldo avvolgerà praticamente tutto il nostro paese portando temperature davvero molto alte, addirittura si parla di picchi anche di 39, 38, 39 gradi sulla Valpadane e addirittura di 43, 44, forse anche qualcosina di più per quanto riguarda la Sicilia, insomma sono temperature davvero molto molto alte. Chiaramente in molti si domandano il tempo sarà bello, chiaramente sarà bello, a parte qualche temporale pomeridiano sempre possibile sulle zone alpine, specialmente quelle più del nord ovest, ma per il resto il sole splenderà praticamente indisturbato su tutta la penisola. Quanto durerà il caldo? Anche questa è un'altra domanda che si pongono soprattutto quelli che non lo sopportano, il caldo dunque la prossima settimana inizierà caldissima per tutti e poi probabilmente tra mercoledì e giovedì ci sarà una leggera attenuazione dell'alta pressione sulle aree più settentrionali, dunque sulle zone del nord dove comincerà a soffiare aria relativamente più fresca e questo potrebbe innescare qualche temporale e ovviamente anche una stemperata dei termometri, mentre proseguirà a fare tanto tanto caldo al centro-sud se tutto verrà confermato probabilmente per tutto il corso della settimana. Ci aggiorneremo strada facendo. Per ora è tutto amici, a più tardi.